Pac, questa persona che ho davanti è rimasto bambino nell'eterno della percezione comune, pure se adesso diciamo alla ragguardevole e meravigliosa età adulta, però osservandolo si riconosce il tratto, l'espressione di Bruno Bambino, di Bruno Ricci, la costuia Enzo Staiola che interpreta il figlio di Lamberto Maggiorani in l'area di biciclette, 1947, 48, figlio della Garbatella, luogo meraviglioso di Roma, di memoria antifascista, rimasto intatto nella sua diciamo perfezione ideale nella sua storia. Cos'hai fatto poi nella vita? Hai lavorato sempre al cinema, ho fatto 18 film, 18 film, ma diciamo sei stata un po' la Shelley Winters d'Italia, con la differenza di Shelley Winters poi è diventata ambasciatrice degli Stati Uniti a Praga, io sono ambasciatore della Garbatella, sei ambasciatore della Garbatella, è vero è vero non avevo sentito. Mostriamone laggiù la Garbatella. Io però non so di Garbatella. E di dove sei? Nel Colosseo. Ovvero? Via Capodafrica. Via Capodafrica c'è pure una canzone di Francesco De Gregori. Via Capodafrica c'era la casa del popolo. Si, il cinema Colosseo, il Benzinaito e poi c'è la casa del popolo. La casa del popolo, alla casa del popolo... Ci stavano le attrici. Chi c'è stata? Eh... Anzi un attimo, era casa del popolo. Poi col fascismo divenne la sede dell'Operazione Dopolavoro. Si. E adesso credo sia una sede di Equitalia o di qualcosa del genere dove vai a pagare... Mi pare le... Si, insomma, l'immondizia ecco. Adesso credo ci sia la circoscrizione. E come mai sei venuto alla Garbatella? Dopo un film sono venuto qui alla Garbatella, a Pierluigi Fincati. Ma com'è che ti hanno preso? Sei andato a fare un colloquio? Ho fatto un provino. Hai fatto un provino? Si. Insieme a Enzo Cerussi con un altro bambino. Come no? Non lo ricordo Enzo Cerussi. Tony il professore aveva fatto Enzo Cerussi. Si, si. In America. In America. In America, bravo. Però Enzo Cerussi ormai sta all'arberi pezzotti mentre noi siamo qui felici. Si. Mi sa che è morto giovane pure. È morto giovane Enzo, Enzo nostro. E invece hanno scelto te invece di Enzo Cerussi. Enzo Cerussi. Si. Una serie. Ha fatto 2.000 provini in Decidia a Milano e tutte le parti. E poi sono riuscito pure io. Ma tu volevi fare il cinema? No, che io volevo fare. E che volevi fare? Pensa. Pensa. Il Fornaru. Che volevi fare? No, io penso vicino ad andare ai posti. Non ho sentito. Il postino. Volevi fare il postino. Con la moto e il cammino. Allora si chiamavano i cascherini. No, il cascherino è quello che va a portare la spesa. Io la mangiavo. Io la portavo alla posta. I postini col freggio de' Latta. Ti ricordi il freggio de' Latta? No, quello mi ho ricordo. I postini avevano il berretto grigio col freggio de' Latta dell'autorità post telegrafonica. E l'ultimo film che hai fatto quando è stato? E' stato. Aspetta. E' stato. Alti tempi. Senti, alla mossa del cinema o a Venezia ti invitano? Si, tante volte. Poi adesso saremo invitati tre giorni fa. Paolissimo che saremo. Eh? Che mai nominata saremo, paolissimo. Non c'è giornata? No, ma che problema. Ma perché? Ma che non mi so sfusare. Ma so già. E pur di che ancora siamo vivi eh. No. No. Dimostrare che ancora. Tu glielo dici, io mi muovo ma lei diciamo mi dà un gettono, un cospillo gettono. No, ma che invece? E invece no. Allora si muove. Ti dà il telefono. Eh? Per il telefono. Ah, per il telefono. Va bene. Grazie Enzo. Ciao. Mi sembra una cosa splendida. A voi. Poi è identica a quando era bambino. faceva... Gli occhi. Faceva filare la... Deci. Faceva filare la mozzarella in carrozza. Fammi vedere. Ma a Roma la mozzarella in carrozza non la fanno più da nessuna parte. No. Una volta la facevano all'Esperia. Lì, aiutami, su Lungotevere. E invece... Parla del medioevo. Non c'è più neanche la mozzarella in carrozza. Ci sono manco più in carrozze. Ma in carrozze ci stanno in Botticelli. E i maiavalli sono morti tutti. Si sono magnati. Stai cercando la foto con la mozzarella in carrozza che fila. No. Fagli vedere la foto con l'Oscar. Il culo ha preso un Oscar pure. Eh, ha preso l'Oscar. Lo sappiamo. Eh. E lui ce l'hanno. Ma la foto con la mozzarella in carrozza vale di più dell'Oscar. Che c'è stata la faccia sua. Quindi abbiamo scoperto che vieni dalla via Capodafrica. Provata? No. Mostro la garbatella nel frattempo. Questo è un film che ho fatto. Cuori senza frontiere. Con Gino Lobetti dai Raffa Vallone. Con Raffa Vallone ho sentito bene. Anche Raffa ci ha lasciato. Questo sei tu. Si. E lei chi è? Gino Lobrigida. La conosco Gino Lobrigida. Noi c'ha problemi seri con... Ha litigato col figlio. Chi è Mirko? Si. Mirko Scofic. Una storia, diciamo, terrificante. C'è un giovane che si... Insomma, così. Una storia di cronaca. Va bene? Trovata? No. No. Meglio così. Grazie. Grazie. Noi. Grazie Enzo. Faccia in te. Pacca.